cari amici buonasera sono mimmo cozzolino un dirigente sindacale dell'anief e stasera vi parlerò del part time questo sconosciuto la domanda di part time va presentato entro il 15 marzo e fa fede il protocollo della scuola chi può presentare la domanda il personale docente facciamo alcune distinzioni non è consentito il tempo parziale quando l'insegnamento è svolto da un unico docente poi invece per gli insegnanti della scuola primaria però è obbligatore comunque la partecipazione alla programmazione didattica collegiale per la secondaria di primo e secondo grado invece il part time e part time sarà concesso in modo tale da non dividere mai l'unicità dell'insegnante all'interno della classe in rapporto a ogni classe di concorso il personale educativo può anche presentare la domanda di part time in quel caso però il tempo parziale deve articolarsi a meno su tre giorni lavorativi settimanali anche il personale alta e può scegliere se fare una riduzione di orarie su tutti i giorni lavorativi o scegliere tre giorni lavorativi con una prestazione orari di almeno sei ore al giorno questa domanda chiede part time per due anni e vale se rappresentiamo a marzo dal primo settembre per i prossimi due anni se dopo i due anni volete continuare con il part time non si deve fare niente ma se si vuole tornare sulla cattedra completa bisogna presentare domanda io posso rinunciare a questa domanda che ho fatto entro i termini che ogni ambito territoriale decide ogni anno in cui si presentano le domande ma se questo part time mi viene accettato da quel momento non lo posso più rifiutare una cosa importante che molti non sanno sono le novità introdotte nel 2011 al part time più di tutto non c'è più obbligo per l'amministrazione di accogliere automaticamente il part time bisogna che il dirigente scolastico valuti queste tre circostanze che le richieste di domande di part time non abbiano superato il 25 per cento del personale docente a disposizione bisogna sapere perché l'insegnante ha chiesto il part time perché se nel caso è per fare un'altra attività bisogna conoscere perfettamente questa attività se è in contrasto con l'amministrazione scolastica o se è presa un'altra amministrazione in questo caso sarà rifiutata e poi può essere rifiutata se ci sono problemi di funzionalità all'amministrazione attenzione un consiglio quando presentate domanda per evitare abusi a volte sapete può succedere vi consiglio di chiedere per iscritto le motivazioni in caso di nemico in base alla legge 241 del 1990 così conoscerete le ragioni in caso di equivoco ripresentate la domanda e se il caso consentirete l'attivazione dei giudici del lavoro per la salvaguardia di un vostro diritto a proposito dei diritti ci sono delle precedenze hanno la precedenza i lavoratori con figli o genitori affetti da patologie oncologiche lavoratori che assistono una persona convivente con la gravità assoluta della legge 104 con la limbalità civile al cento per cento lavoratori con figli conviventi che non superano i 13 anni o i lavoratori con figli conviventi in situazioni di handicap grafica per quanto riguarda l'orario di servizio la durata minima di questo riservizio deve essere il 50 per cento di quello pieno come può essere organizzato richiesto questo part time con una riduzione organica su tutti i giorni quindi ogni giorno si lavorerà qualche ora di meno questo si chiama orizzontale di importante c'è quello verticale per un minimo di tre giorni settimanali in modo da poter ottenere la metà dell'orario cattedra attenzione se stiamo parlando di docenti è obbligatorio partecipare alle attività collegiali anche se essa capita in un giorno in cui grazie a part time uno è libero è un discorso a parte deve deve riguardare il trattamento di part time orizzontale da quello verticale per l'orizzontale andando tutti i giorni a scuola le ferie i giorni di permesso per la legge 104 i concedi parentali hanno lo stessa durata di quelli che hanno cattedra intera invece chi fa un part time verticale a le ferie gli articoli di giornate di permesso per la legge 104 i concetti parentali in proporzione a giorni che effettivamente va a lavorare per quanto invece riguarda la pensione possiamo dire che la scelta di un lavoratore del part time la scelta di questo part time non determina uno spostamento dell'età pensionabile ma sicuramente la minore contribuzione versata potrà pesare sull'importo della della pensione come sempre vi invito come anef a seguire i nostri canali youtube il nostro canale facebook le nostre pagine e i nostri account telegram oppure di venire in sede prenotarvi in modo che possiamo chiarire insieme a voi i vostri dubbi grazie e arrivederci